Un capolavoro di mare semplice ma sorprendentemente saporito. Preparare 500 grammi di gamberetti, 4 spicchi d'aglio, 2 rametti di rosmarino, succo di 1 limone, olio d'oliva, sale e pepe. Tritare finemente l'aglio e il rosmarino e metterli da parte. In una padella, scaldate l'olio d'oliva, aggiungete i gamberetti e cuoceteli per 2 a 3 minuti. Aggiungi l'aglio e il rosmarino ai gamberetti e fai cuocere per altri 2 minuti. Spremi il succo di limone sopra i gamberetti, aggiusta di sale e pepe e servi immediatamente.